Buongiorno a tutti, sono Jadwin Derrana, siamo alle battute finali del percorso di SalesCalt e oggi si parla di negoziazione. Essenzialmente cercheremo di mettere insieme alcuni concetti già espressi in precedenza e di parlare di tecniche di negoziazione. Quando vendiamo, perdiamo dei soldi. Si vede proprio durante le negoziazioni dove vengono persi e le concessioni che facciamo, le prime offerte che facciamo e quindi l'intenzione è quello di dare ai partecipanti strumenti per portare a casa più margini. Essenzialmente il corso si incentra su questo. Parleremo anche un po' di interculturalità, nel senso che accenneremo un po' a come negoziare in giro per il mondo, le difficoltà che si hanno. C'è gente oggi che il mercato italiano è sempre più ristretto e anche il mercato europeo un po' a vedere come si bisogna negoziare con cinesi, indiani, brasiliani, arabi, turchi e qualche concetto di massima viene espresso anche in questo caso qua perché negoziare in giro per il mondo è molto più difficile e lì conta molto più la relazione, conta stabilire i rapporti di fiducia. Grazie.